Va dove ti porta il cuore è un romanzo scritto in forma epistolare, ossia è strutturato come una lunga lettera in cui si delinea, si descrive una profonda riflessione sulle tappe della vita di una donna ormai anziana, Olga. Il testo è semplice e discorsivo e la voce narrante è quella di una nonna che cerca di raccontare la dolorosa storia della sua famiglia alla nipote. Che ormai sta diventando adulta. Va dove ti porta il cuore è un best seller che ha venduto ben 16 milioni di copie in tutto il mondo, 16 milioni di copie in tutto il mondo, ed è stato inserito fra i 150 grandi libri che hanno segnato la storia d'Italia in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo anno dell'unità d'Italia nel 2011 presso il Salone del Libro di Torino. Da questo libro nel 1996, quindi due anni dopo la pubblicazione, è stato tratto l'omonimo film interpretato dalla mitica attrice Vierna Lisi. Vi leggo il riassunto. Buon ascolto. Olga nasce a Trieste in una famiglia della borghesia di origine ebraica, da genitori severi, e cresce quasi in solitudine senza sentirsi amata. Al momento di terminare gli studi al liceo, il padre le vieta di frequentare l'università. Olga, che è uno spirito inquieto ed intelligente, trascorre la sua giovinezza a casa con i genitori, senza riuscire a trovare un fidanzato e senza neanche cercarlo. Ormai quasi trentenne, viene corteggiata da Augusto, un uomo abruzzese più vecchio di lei, rimasto vedovo e in contatto con il padre per motivi di lavoro. Dopo pochi mesi di conoscenza, Augusto e Olga si sposano. Tuttavia, Augusto non si mostrerà affettuoso con Olga, preferendo invece dedicarsi al lavoro. Olga si trasferisce all'Aquila, diventa sempre più depressa, mentre il mondo è sconvolto dalla seconda guerra mondiale. E alla fine della guerra viene a sapere della distruzione della sua casa paterna e con il marito ritorna di fretta a Trieste, dove acquistano una villetta in periferia della città per ospitare i suoi genitori ormai vecchi. Prende come pretesto, come scusa, il mancato arrivo di un figlio ed Olga si reca per due settimane alle terme di Porretta, Bologna. Qui conosce un medico delle idee comuniste di nome Ernesto, con il quale inizia ad intrattenere una relazione segreta. Olga inizia a sentire per Ernesto un sentimento che aveva cercato per tutta la vita e che non aveva ancora provato, l'amore. E sì, Olga si innamora del suo amante di Ernesto. Ritornata a Trieste, la donna scopre di essere incinta di Ernesto, ma decide comunque di tenere la bambina che chiamerà Ilaria, facendo credere ad Augusto che il padre sia lui. Intanto prosegue la relazione segreta con Ernesto, con lettere ed incontri clandestini, fin quando una notte il medico si schianta contro un albero con la sua automobile e muore. Olga scopre la morte dell'amante dopo qualche mese e cade in una profonda depressione, tanto da iniziare a trascurare la figlia Ilaria, che inizia a nutrire un profondo rancore nei confronti della madre. Odio, rancore. Con l'aiuto di padre Thomas, un religioso gesuita tedesco, Olga inizia lentamente a riprendersi e avvia un percorso spirituale. Ma deve scontrarsi con la crescente ostilità di Ilaria, di sua figlia, la quale, con l'intento di allontanarsi dalla famiglia, si iscrive alla facoltà di filosofia dell'Università di Padova, dove incomincia a frequentare assiduamente gli ambienti del 68 ed i collettivi femministi, con un certo fanatismo. In questo periodo muore Augusto, malato da diversi anni. In punto di morte, Augusto lascia capire ad Olga, con una mezza frase, di avere sempre saputo che Ilaria non era sua figlia, gettando la donna in un profondo sconforto. Adesso vedova, Olga, tenta di recuperare il suo rapporto con Ilaria. Quest'ultima abbandona gli studi di filosofia, che peraltro non aveva seguito in maniera corretta, li aveva seguiti malamente, in maniera scostante. Ilaria rimane incinta e alla madre racconta di aver avuto un'avventura, una storia, durante un viaggio in Turchia. Ilaria è sempre più fragile. Ha speso, ha sperperato tutti i suoi soldi, si droga e fa uso di psicofarmaci. Sommersa dai debiti, si rivolge alla madre chiedendogli un ennesimo aiuto finanziario, un ulteriore aiuto finanziario, e per la prima volta la madre dice di no a sua figlia, per la prima volta in vita sua. Da questo no esplode un pianto isterico, nasce una lite violenta fra Olga ed Ilaria, in occasione di questa lite Olga si lascia sfuggire il segreto sulla vera paternità di Ilaria. Ilaria fugge lì e disperata, schiantandosi contro una quercia in auto e morendo qualche giorno dopo in ospedale. Ilaria muore. La piccola figlia di Ilaria, rimasta orfana, viene affidata alla nonna Olga. Olga, anche se anziana, cresce la nipote sviluppando con lei un rapporto affettuoso. Durante l'adolescenza per una nipote è travagliata da una profonda inquietudine e si scontra sempre più violentemente con la nonna, giungendo spesso a provocazioni arroganti e volgari. Ma giunta alla maturità e indecisa sul suo futuro, sceglie di partire per l'America. Olga viene colpita da un ictus e ormai, capendo, realizzando di essere alla fine della sua vita, scrive una lunga lettera diario alla nipote, con lo scopo di svelarle tutti i segreti della sua vita ed invitandola sempre ad andare dove la porta il cuore. Bene, italianisti, carissimi italianisti, questo è il riassunto abbastanza dettagliato e l'analisi della trama del romanzo Va dove ti porta il cuore. Come dicevamo all'inizio, è uno dei romanzi più belli, più intensi, seppur breve, romanzo breve ma intenso, quindi con questa commissione di brevità e di intensità fa di Va dove ti porta il cuore uno dei più bei romanzi di tutta la letteratura e tutta la narrativa italiana. Io vi consiglio vivamente di leggerlo nella vostra lingua sicuramente, di leggerlo anche in italiano dopo averlo letto nella vostra lingua per avere un confronto, per vedere bene come è strutturato, come sono i vocaboli, per capire sicuramente bene tutto il significato del romanzo e anche capire lo sforzo, anche applicare uno sforzo linguistico di esercitazione lessicale per capire come si fa la traduzione, come viene tradotto questo tipo di romanzo dalla vostra lingua all'italiano. Ed è in questa fase di traduzione che si acquisisce parecchio lessico, parecchia lingua. Vi consiglio di fare qualche esercizio, leggetelo, è veramente bello, guardate il film se vi capita anche in italiano perché è veramente veramente coinvolgente, interessante. Io vi invio questo pdf, vi preparo questo pdf ad inviarvi, vi do l'indicazione, e dunque per avere questo pdf vi invito ad inviarmi un'email, vi lascio la mail qua in sovraimpressione e anche nei commenti italianinfabio.com per richiedermi il pdf scrivetemi una mail ad italianinfabio.com scrivendo nell'oggetto Susanna Tamaro, mi scrivete la mail con l'oggetto Susanna Tamaro nel testo Susanna Tamaro e io vi invio il pdf di questo riassunto, la trascrizione di questo video che vi ho letto questa sera. Bene carissimi italianisti il video termina qui, io vi ringrazio vivamente per la vostra attenzione, vi do appuntamento nei prossimi video, vi abbraccio e vi saluto calorosamente. Buona serata a tutti, a presto, ciao!